Nebilla Caidi, al di là della sconfitta, nel primo tempo ha colpito in negativo il fatto che il Teramo, nonostante quei due schiaffi, non avesse proprio reagito. Sì, ci hanno fatto un po' sorprendere dopo i primi due gol e abbiamo fatto fatica a reagire perché era una partita molto delicata e questi due gol ci hanno un po' destabilizzato. Nel secondo tempo abbiamo cercato di reagire ma il gol dell'1-2 è arrivato troppo tardi e quindi non siamo riusciti poi a pareggiarla. Questo dispiace però bisogna andare avanti. Questo è un brutto stop per il Teramo però perché di nuovo la classifica si complica. Sì, ma noi abbiamo sempre lottato per queste partite e purtroppo oggi è andata male e dalla prossima ci ripresentiamo coltello fra i denti e cerchiamo di fare punti alla prossima partita. A inizio del secondo tempo avete provato con qualche tiro però purtroppo finito fuori dallo specchio della porta. Magari un gol in quel momento sicuramente vi avrebbe dato quello stimolo in più? Sì, secondo me trovare il gol una ventina di minuti prima almeno avrebbe dato più forza per l'assalto finale. Invece il gol è arrivato al novantesimo e dopo era difficile in quattro minuti avere la palla del 2-2. Adesso due trasferte, anche queste saranno trasferte da affrontare in una certa maniera perché sono squadre che come voi stanno lottando per un posto al sole, per la salvezza diretta. Tra l'altro con gli ultimi risultati si sta rimescolando di nuovo la classifica anche perché magari le squadre che sono giù vincono e quelle che stanno un po' più su, un momentino più tranquilli adesso sono invischiate. Sì certo, quindi ci sono tante squadre che stanno lottando come noi e lotteremo fino alla fine. Un primo tempo bruttissimo, forse abbiamo dato continuità a Bergamo, forse dovevamo avere un altro atteggiamento che non c'è stato. Come ho detto già in passato, se devi salvare non puoi scendere in campo, soprattutto in casa, con un atteggiamento così. Il tuo gol sul calcio di rigore è arrivato troppo tardi, però alcuni minuti prima avevi realizzato un gol che però ti è stato tolto per un fuorigioco. Tu come l'hai vista? Io l'ho visto regolarissimo. Non so l'albitro dove l'ha visto questo fuorigioco, anzi il guardalineo dove l'ha visto. Poi non lo so, se avrà visto un fuorigioco, forse un centimetro. Forse è stato talmente bravo a vederlo. Se l'ha visto gli faccio i complimenti. Al di là di questo però, ecco, un Teramo sicuramente che ha disputato una brutta partita. Sì, 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 è una brutta partita. Anche perché se prendi due goli nei primi venti minuti, non voglio dire tutto contro, però la gente non ci aiuta nemmeno. perché è una squadra che bisogna anche aiutarla, perché alla fine questi siamo. Non è che se ci criticano o ci prendono a parole, noi diventiamo il Barcellona. Ti vorresti un aiuto anche da parte del gruppo? Sì, penso un aiuto a sostenerci perché la salvezza non è solo nostra o solo loro, cioè è tutti insieme e dobbiamo essere tutti uniti per la salvezza. Ti vediamo claudicante, che cosa hai riportato? No, con il tallone ho sbattuto, ho insaccato il tallone a terra, quindi fa male il tallone.